Quante volte le amiche mi chiamano per dirmi le ricette? Eccone una con le zucchine che non conoscevo! Tagliatele a fettine molto sottili, mettetele in una ciotola con sale, pepe e lasciate riposare per circa 30 minuti. Aggiungete l'acqua, le cipolle a fettine, la farina, mescolate e versate direttamente nella leccarda del forno, livellando la superficie. Aggiungete olio e fate cuocere per 30 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi. Si chiama scarpaccia e ognuno ha la sua ricetta, alcuni la fanno anche dolce. Allacciate il grembiule e provatela anche voi!